Hoi caio di tutti e zagarezza gara io sono Genius29 E ci sono anch'io Stone E ci sono anch'io Stone, cioè più che altro ci sono anch'io Registro io stranamente però ci sono anch'io Guarda caso, casualmente No, aspetta, ah, terzo distretto, ok, io sto per fare tutta la speranza Vai, fai ok Sì Sì Oh, che cazzo fa questo? Ah, io una cosa, non ho roba per farmi eh Non ho accorgive Io no perché quelle le ho vendute tutte per fare quello che dovevo fare prima Buono, speriamo di no Però non me le fare di sotto eh E non posso strozzarmi Ma prima non lo faci Adesso quando sempre quando registriamo Non registriamo Non registriamo Ehhhh Ehhhh Sono un blade No, aspetta Vabbè, questo a volte è utile per recuperare vita Ma com'è che gli facciamo così poco danno? Non lo so Ehm Io ho il cannone appena comprato che è una bomba Ehm 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 Mora È O Ehm Ok Ehm Io ti faccio vedere una skill che ho messo da poco C'è Se c'è un piano dritto Fai il culo a tutti Sta skill No Madonna lì odio Se arciarie colpiscono a distanza Questa 359 colpi Però con un colpo di cannone Ovvio Io mi sa che ho l'armatura rotta Aspetta rompo la cassa L'abbiamo rotta Manca a me le ciliegine blu Madonna quanto li odio Si arcieri Anche quelli sono stronzi Ma gli arcieri che sparano da lontano ad arco Sono Si Prima era No no Questa è diversa Guarda questo qua Di dimensione così Io devo uccidere Sti stronzi qui Cioè no ma vaffanculo Io uso la skill E poi scendo dal piano E non lo colpisco Eh anch'io È perché sto combattendo contro il comandante Contro sti Viverna No contro i comandanti e contro i Viverna Madonna Madonna No io sto crepando Non va bene Non va bene Non va bene Woh GG Ok ho fatto anche la missione Alla playa Si un attimo Io c'ho un cazzo di vita Madonna Oh cibo Gesto di lipio è uguale No succhia sangue Altro che succhia mana Quello è peggio Quello di più gli ha la vita No è volato via Gaffanculo Ma perché le Viverne Ce l'hanno bene No No Non ci sto crepando Eh anch'io ci sto crepando Sto facendo lo slump Adesso sulla Viverna Mi pesce a caso Il cazzo sto abitando Lo so Mi ha petrificato Guarda qua quanti sono Vediamo il libro Di so molto Ti risuscito Io ce la fai No no ce la fai Non ci posso Ma sta Viverna Si tratta la sporta No 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 La colpisco mentre è in vola E poi si tratta la sporta via Oh ma qui c'è una potenziata Tutti i potenziati Bene ci penso io No ne ho ucciso uno A differenza due Eh appunto io ne ho ucciso uno Te ne ho uccisi tre E siamo a posto Però è che questa vino Si sta ferma perché C'ha l'invulnerabilità Cazzo ma l'ho ucciso Eh ti rompi Io ricarico E intanto evoco lui Ah e stavo colpendo Pensavo fosse Si sono i ninja Si si ci stava pensando il mio pet Prima che si buggasse Ma intanto si piglia colpi Al posto nostro E' per questo che io evoco Gli amici No non è quello È quello con il martello A volte quando tira le martellate Li blocca Venga utile contro il boss Se ci arriviamo un tempo Si No non è lui A loro Ringraziami Ringraziami C'è rimasta La troia Anche Elisis Non è da meno Ma loro non Per tanto velocemente Che io devo ricaricare Nove proiettili Vabbè che ogni tanto Me ne ricarica due Al posto di uno Però Cristo Uh eccoci E' un gradatore romano Eh un gradatore romano Quali sti cosi Allontanati Oddio sono quasi morto Eh ma preso No 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 Ok No Morto No L'ho usato Alla parte sbagliata Si vabbè Comincia a rianimarti Cazzo Cazzo c'ha ancora Sette vite E' un cazzo Fanculo Fanculo Una delle poche volte In cui mi trasformo In un dungeon E' un giovane E' un'altra parte sbagliata E' un'altra parte sbagliata E' un'altra parte sbagliata Ah sei già morto? Come faccio ad animarti? F4? Bene, danger ed è caduto a terra, bellissima Io mi sono allontanato un attimo Oh Cristo sto morendo No 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 no, verda sono morto Sì, anche se ne ho solo uno E aspetta ora ci penso io a ucciderlo Lascialo libero No, quasi Allontanati Ah, mi ha preso Ora forse ce la fa Oh madonna che palle Sì Grazie Che io non ce l'ho fatta per un pelo Pff, vincere dopo Sì È un portale dell'oscurità Andiamoci Io ne ho zero perché ho rinanimato te Andiamoci E nemmeno io ne ho in realtà Tutti è zero Mi ricarico di mana Grazie Sì 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 Ma ma chi è che basta vincere? No, non si vince Io non faccio un cazzo qua Vabbè Vabbè Guardate che mi trasformerò Dov'altro Però chiunque Adesso Che rimanere Dove Perché Vieni qua Perché mi trasformerò Sì Chi è il nostro Quale tizio? Ma qui mi sta levando mano a Goku Leviamone un paio di mezzo Io non ho ancora perso un po' di vite Per dire Ma che cazzo hai fatto? Perché non lo so Non cascate Dai Abbiamo andato Le mani Le mani Le mani Le mani Le mani Le mani Sì Non ce la riesco niente Però va bene C'è qualche L'amico Di schiena Sì Tanto ne spono un altro Sperto Ok O di Le mani Le mani Si è anche No No Si toglie un po' di vita Oh ma Avete rotto le palle Volate un po' a terra Scusatemi Hai rotto le palle Dai che è quasi morto Vai è morto è morto Qualcuno mi sa che è salito di livello Oh io no Se devi Te che Dove Dobbiamo uccidere Il portale Se Dobbiamo uccidere il portale Stai attento Non avvicinarti troppo No Questo però è più figo Sì noi Sì noi Vai 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 Uh è a 3 barre Ma non cunce la sono Mi sa Sì Sì Ok, lo spacchiamo sul puntale e andiamo via da qui. Va, va, lo faccio, lo faccio, lo faccio. E guarda, mi dice tutto. Dal puntale, andiamo a spaccare. Danger. Danger. Beh, guardi anche, guardi, 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 guardi. Basta, guardi anche, basta. Ok, andò, devo andare. Guardi, 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 guardi. Dai, ringrazio. Le chiamo questo. No, ma non posso dire, insomma, eh. È in accessione. No, � YOUTU? Sì. Perfetto. Perfetto. Vai, cioè, aspetta un attimo, ne devo fermare la registrazione. Rieccoci qui a fine dungeon Direi che è abbastanza Dato che abbiamo fatto un portale Cioè un dungeon e un portale E si sente un oggio strano da te Ah ok E direi che per questo video è tutto Iscrivetevi se non l'avete fatto Commentate, mettete mi piace C'è anche la pagina facebook Sì Metteremo anche gli pdts Eccetera In descrizione, la solita roba E direi che per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima puntata Ciao a tutti